Ciao ragazzi! Con Lovovia stiamo salendo sulla montagna dei draghi Abbiamo una missione da compiere Siamo sul Latemar in Val di Fiemme E dopo le tre avventure in montagna che vi lasciamo qui sotto Link in descrizione Oggi ci aspetta una caccia al tesoro Ci aspetta la missione del ponte magico Dovremmo aiutare il piccolo draghetto Toffa a riabbracciare la sua mamma Guarda che pucciosetto Ci siamo quasi! L'avventura sta per cominciare! Ci rechiamo all'Infopoint dove ci verrà dato un giocolibro per iniziare la caccia al tesoro La nostra caccia al tesoro inizia da qui Ci hanno dato questa borsa all'Infopoint che contiene tutti i materiali che ci serviranno per aiutare Toffa Il giocalibro! Apriamo! Ta-da! La vostra missione è aiutare Toffa a riabbracciare la mamma, Robinia Per farlo il maestro dei draghi, Prakon, ci ha detto che dobbiamo aiutare il piccolo Toffa A trovare il ponte magico che unisce il regno dove è adesso con il regno dei draghi Prima che la luna illumini la torre più alta e più bella dell'Atemar Cartina alla mano! Noi siamo qua, dito di Ale E adesso andiamo... Abbiamo due postazioni! A risolvere l'enigma del tronco! Via! Si scende! La cosa più spettacolare è che quando ci avviciniamo con la borsa alla postazione Avete sentito? Sì! Succede qualcosa! Delle rune, qualcosa del genere! Delle rune! È vero, guardate che si è attivato! È veramente un enigma! Come facciamo a risolvere questo codice qua? Forse, ho capito! L'alfabeto dei draghi Ah, abbiamo l'alfabeto dei draghi! Penna, Niki, penna! Penna, penna, penna! Penna, penna, penna! Ah, non è quello della fantasia di Gerano! Se no, non si vuole leggerla! Ci siamo! È stato impegnativo ma abbiamo la frase Contate le lettere in Latemar! Contate! L, A, T, E, M, A, R Sette! Sette lettere! Sette, allora lo scriviamo qua nel riquadro! Le inseriamo nel box! Adesso andiamo alla fine! Dove abbiamo un cifrario! Dove abbiamo lettera T mettiamo il sette! E dove abbiamo un sette mettiamo la lettera T! A ogni tappa si ricalca! Qua, in questo mobiletto con la lettera di drago si nasconde un rilievo! Nella borsetta abbiamo trovato questo foglio gigante come vedete fatto tipo puzzle! Solamente alcuni corrispondono! Cioè, solamente uno corrisponde a questo cassettino! E con il super pastello in dotazione possiamo andare a ricalcare! Prossima tappa! L'albero gargogliante! Siamo fortunati che il numero ci è stato abbonato! Abbiamo un bonus! Qui all'interno però dobbiamo fare il nostro rilievo! La forma è rettangolare! Non si può sbagliare! E siamo arrivati ai guardiani del nido reale! Eccolo qua! Abbiamo un nido gigante! E all'interno ci sono quattro gargogli! Sono questi ragazzi! E vivono nella cattedrale di Notre Dame! Secondo voi che lingua parlano fra di loro? L'inghle dragolese? L'arab dragolese? Lo spagno dragolese o il franco dragolese? Lo spagno dragolese! Tu dici Notre Dame, Paris... Che lingua parlano? Se sono a Paris? Ah! Franco dragolese! Bravissima! È giusto! Quindi il numero che ci serve lo segniamo è il numero 4! E lo mettiamo qua! Siccome siamo qua ci conviene andare... Ecco i tubi e lì c'è il coaster! Esatto! Proprio in mezzo si intravede già i drati fraziosi! Vai vai! Niki è già partito! Vai vai vai! La regina delle arco falene ha costruito dei disegni su questi cubi! Quei cubi! Esatto! E noi dobbiamo metterli in una posizione logica e contare il numero di pietre preziose! Come bisogna metterle? Non lo so! Come se continuassero da uno all'altro forse no? In questo modo abbiamo creato una linea unica... Sì! Manca la testa! Vai gira! Eccola! Ci siamo! Contiamo adesso le pietre! Le pietre preziose! Una, due, tre, quattro, cinque! Allora scrivo il cinque! Vai! E A5 lo andiamo a scrivere anche in fondo! A5! 5 A! E qui si ricalca! Ragazzi c'è una pausetta qua! Qua dovete sapere che c'è il tubi! Ovvero si scende come fa questo bimbo! O questo gommone! E bisogna urlare così Matilde! È obbligatorio! Ci troveremo! Si sale! Ci siamo portemati! E' velocissima! Adesso arriva Nicky a tutta velocità! Ciao Nicky! E arriva Matty! E passa Nicky! E passa Nicky! E dunca Nicky! Lo inseguo! È arrivato! E qua si è raggiunto! Ed ora ci avventuriamo nella foresta dei draghi! Non possiamo sbagliare! Si va! Dovremmo trovare il pozzo degli alchimisti! Allora al bivio! Dove si va? Su, giù! Perché c'erano gli scalini anche di là! Beh ma secondo me... Secondo me di qua! Ecco era abbastanza chiara! E vedi che è un po' più sopra il sentiero? Non possiamo sbagliare! Ecco il pozzo! Ci siamo! Ci siamo! Questa è la corsa al pozzo! È che loro non hanno gli zaini! Sì sì sì! Diciamoci la verità ragazzi! Ecco il pozzo! Si può inventare anche zaino! È proprio fatto come pozzo! Allora qui abbiamo dove ricalcare! Ho sentito qualcosa! Guarda! Oddio! Le bolle! Ma chi si nasconde lì dentro? Non ci crede! C'è qualcosa? Cerca cerca il pozzo degli alchimisti! È ora di mettere qualcosa sotto i denti! E che denti! I draghi devono mangiare anche per mantenere le scaglie delle loro corazze forti e brillanti! Sotto questo pozzo ci sono dei laboratori! Che si trasformano in vere e proprie cucine! Che fai? Non mancano lambicchi, pentoloni, padelle e mestoli! Ecco che i nostri chef alati stanno cucinando! Guardate! Nella notte del sorstizio d'estate riempire una coppa di cristallo con un bicchiere di acqua di fonte! Aggiungere sette semi di garofano pennacchio! Una radice di silene a cauris! E una tazza di petali di rododendro! Mescolare lentamente con un cucchiaio di argento! Il drago dovrà mangiare cinque cucchiai di dragù! Color arancione, blu, rosa o giallo? Scrivete nell'apposito spazio il colore di cui si tingerà l'acqua che verrà aggiunta alla ricetta di oggi! Allora, a me sembrava arancione! Anche a me! Anche a me sembrava arancione! Arancione? Allora 8, 8 arancione! Pastello! Arriva! Ricalchiamo! E andiamo alla prossima tappa! Secondo la mappa abbiamo i segnali fumosi! Ma c'è un mistero da risolvere! Cosa avrà Mati nella sua borsetta? Lì nella palestra dei draghi? Praticamente ho delle pigne perché a casa farò un lavoretto! Vuoi vedere? Ma ce n'erano anche nel pentolone dei draghi! Non si sa che piacciono anche a loro! Secondo me gli piacciono! Avanti! Prossima tappa! Qua bisogna contare il numero delle fumate! Però con il saggio dei monti ha vissuto per qualche anno in una tribù di draghi pelle rossa! E' qui che ha imperato i segnali di fumo! Esatto! Avanziamo! E lungo il percorso ci sono le panchine dei draghi! Guardate ce ne è giusto 4 per noi! Il relax è 1, 2, 3 e 4! Ma come dice il maestro dei draghi? Dobbiamo andare! E' vero! E quando è che lo diceva? Sempre all'inizio! All'inizio! Andiamo! E' una freccia? Dovevamo seguire la freccia? Sì! E là c'è anche il segno se ti è andato dalla parte giusta? Secondo me sì! E allora andiamo dalla parte giusta! Allora! La letta di drago! Il piano! Il segnale di fumo! Flippi ti ha suonato? Ha suonato, suonato! 1, 2, 3! Incredibile! E' fumicatissimo! E' 2! Allora per fortuna mi sa che ci vuole dire che è con noi e ci protegge! Eccolo qua! Io sono al vostro fianco, tutto andrà bene! Scriviamo il numero 2! Apriamo! Nuovo rilievo! I segnali fumosi! Veloce! Continua a fumare Niki! Forza! Non vorrei che cambiasse idea e arrivasse anche qualcun altro! Sì! C'era il 4 che era abbastanza qualcun altro! Qualcun altro! Guardate qua! I fotografati! Sono degli artigli veri! Aspettate! Speriamo siano i buoni! Ecco Niki è finito! Sì! Bene! Meglio scappare! Andiamo andiamo ragazzi! Prossima tappa! Secondo la mappa ci aspetta la puzz... La puzzone! La puzzo! Fuoco! Fumo! Cioè fumo! Venga! L'eroistus con l'aiuto dei gargoyles e di re muschio ha rubato i quattro cofanetti nei quali Robini aveva riposto diamanti, zaffiri e ametiste. Il gioiello più importante è un rubino che porta in mezzo alla fronte ed è quello con i poteri magici più potenti. L'eroistus sapendo che tutta la famiglia reale è allergica alla menta lo ha nascosto all'interno della scatoletta che ha il profumo di questa pianta aromatica. Se riuscirai a individuarla Rubina tornerà in possesso della pietra rossa! Andiamo! Avviciniamoci! Guardate qua vicino! Allora! Qui ci sono le sedie con... Guardate c'è un segno! L'ho già capito! Ragazzi voi non usavate addirittura senza aprire? Come facevate? Oh che buono! Non è menta ma è buonissima! Che cos'è? Che cos'è? Eh aspetta! Limone o comunque... Abbiamo il tè chissà! Lime! Forse lime! Allora sentiamo questa ragazzi! No! Chi sei sicuro? Ah che sfida! Provate questa è buonissima! Provate questa è buonissima! Provate questa sì sì sì! Tua grazie! Prego! Non è era tanto buona mi so! Provate questa invece! Questa sì che è buona! Sì! Questa è buona! Questa è davvero troppo buona! Mi mancava questo! Simbolo del fuoco! Assolutamente cattivo! No! Adesso mi è entrato nelle narizze! Ma che cos'era? Ma che una sigarette! Credo che sia sì carbone! Cose bruciate! Ma prova questo! D'altronde... Aspetta! Questo era buono o era cattivo? Era buono! Mi ricordo che era buono! Speriamo! Questa è quella marcia che vi ho fatto sentire io! È peggio dei puzzarelli! Chi la fa la spezza? Il puzzone! La puzzone! La puzzone! Scusate! Qui andiamo a cercare la sagoma, l'ultima che ci manca, e poi il rilievo sopra! Ripassiamo! E andiamo all'abbraccio di mamma Robine! Ragazzi, se avete che l'ho visto un occhio! Un occhio? È vero! Sul tronco? Sì! Realmente servirà per altre! Incredibile! L'occhio lo devo mostrare, ragazzi! Non posso resistere! Seguitemi! Questa è veramente la montagna dei draghi! Ecco l'occhio che vi guarda! Ah, non sta guardando me! Sta guardando voi, eh! Andiamo da mamma a Robine! Dovremmo esserci! La cabina è là! Eccola! È giusto! Seguiamo la mamma! Ha trovato il giusto pertugio! La mamma era ben nascosta! Ecco perché Toff faceva fatica a raggiungerla! Entriamo nel bosco! Occhio ai rami secchi! Occhio ai sassi! Mi raccordo con questa Toff! Eh, ho sentito bip bip! Che succede? No, ci sono gli occhialini! Ma che bello! Qualcuno vede qualcosa? Guardate, guardate ragazzi! Non si vede niente! Perché bisogna schiacciare il pulsante giusto! Usando il codice! Allora! Z! Z! Qua in mezzo! Che si vede ragazzi? È la superna! È la superna! Non possiamo dirvi! Dovete venire! Se verrete qui sulla montagna dei draghi lo scoprirete! E poi, comunque le sorprese non sono finite! Perché se noi andiamo con il codice all'info point ci aspetta una sorpresa! Aspettate! Un'incredibile coincidenza! Apri, matri, apri! Dove l'ho già visto? Apri, apri! Il cassetto apri, apri! Eccolo! Abbiamo composto la tastiera draghica! Ok, adesso ci aspetta la sorpresa finale! Bentornati ragazzi! Posso vedere la soluzione? Ecco il codice! Perfetto! Ma se abbiamo visto il filmato è giusto! Lo so però! Sai in su! È tutto giusto! Perfetto! Allora ti ridò questo! E questo a nome dell'Accademia Salva Draghi vi do l'attestato come Master of Rescue! Grazie! Aspetta! Ecco! Grazie! Con tanto di timbro e sigillo! E questo è un piccolo regalo! Grazie! Come ricordo! Possiamo anche andare avanti con la spelletta! Vincitore della missione! Vincitore della missione! Siamo noi! Quale etapa vi è piaciuta di più? La mia preferita era quello che faceva il fumo! Il segnale di fumo! Sì! A me è piaciuto il nido! Il nido! Con i draghi che spuntano! I gargoli! Super! Ma già mi è piaciuto l'enigma! L'enigma! Non era facile! Notre Dame può stupire o confondere! Bisogna leggere per bene! Leggere! Vediamo questo consiglio! Super! Fantastici! E adesso anche noi sveleremo a Tiziano un segreto! Cioè come finiamo i video! Sei pronto? Come li finiti! Scada il pollicione! Perché ragazzi! Se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione! E non dimenticatevi di mangiare alla baita a passo feudo! Perché i piatti sono buonissimi! Come dice Mati! C'è anche la pizza! Questa con la carne salada trentina! La mia invece c'ha il puzzone di moena! E poi basta girarsi per vedere un paesaggio super! Siamo in una terrazza panoramica bellissima! Buona turismo mamma! Qui si manda! Che stai assaggiando? Allora anch'io! Noi di solito ragazzi a pranzo facciamo così! Prendiamo cose diverse! E poi ci assaggiamo tutti! E questo è il paesaggio di cui vi stavamo parlando! Stupendo! Qua si vede tutta la vallata! Ma anche dall'altra parte! Oltre al crinale si vede l'altra vallata! Siamo saliti con questa seggiovia! Mentre qua giù c'è la valle dei draghi! Dove abbiamo risolto la nostra caccia al tesoro! E ricordatevi di fare il giro di Dahu! E cos'è il Dahu? È un animale che viveva tanto tempo fa sugli Alpi! Sì? Che aveva i piedi tutti girati dalla stessa parte! Che gli aiutava a scalare! Ecco perché! Ma adesso è stinto! Si dice che far girare il Dahu porti fortuna! No ma aspetta! Devi farlo girare e deve tornare nella sua stessa posizione! È una sfida! Occhio! Ce l'hai fatta! Sei fortunato! Ma l'identico! Ciao! 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 Grazie a tutti.